Morti causate dalla mano dell'uomo, ma anche la strada e la sua pericolosità. Per questo stamane il sindaco di Monteriale, Massimiliano Giorgi, ha incontrato il prefetto Giancarlo Di Vincenzo per chiedere interventi di sicurezza lungo la strada statale 260, in particolare in quei 13 chilometri tra il Cermone e Marana. Lo fa a nome di una comunità ancora sotto shock. L'elenco dei morti è a lungo. Gli ultimi sono i coniugi Albino e Filomena De Vecchis, falciati in un frontale da un ubriaco. Nell'aprile del 2019 la nipote dei due, la giovane mamma serena durastante, era morta in un incidente della dinamica simile, ma non solo. Monica Di Bernardo, insegnante, nello stesso tratto ha perso la vita un anno fa. Nel 2021 invece era stato ucciso sulla strada il ciclista Mauro Mannucci e tutta una serie poi di incidenti più o meno gravi servono controlli e che siano costanti. I numeri di questa strage sono infatti intollerabili. Molto spesso causa tra persone che si mettono al volante ubriache, ma non solo. Quel tratto di strada peraltro è l'unico rimasto da sistemare nell'ambito del quarto lotto della superstrada, l'Aquila Amatrice. Noi già l'avevamo fatto al prefetto precedente con la dottoressa Torrago, già avevamo iniziato un percorso di vigilanza e di controlli su quel tratto di strada. Sono 10 chilometri, 12 chilometri da Cermone fino a Marana di Monte Reale che in questi ultimi tre anni hanno causato sei vittime purtroppo perché è venuta a mancare anche la signora Filomena e basta, è orato di dire basta, vanno intensificati assolutamente i controlli, vanno fatti dei servizi mirati, dei servizi volti a controllare lo stato di ebrezza alcolica, la velocità si possono fare, anche se con sacrifici perché capisco che c'è una carenza di personale anche all'interno delle forze dell'ordine, però abbiamo l'impegno, il dovere civico come istituzioni di dare una risposta forte, forte perché non si può più piangere nessun'altra vittima. Ci sono le nostre mogli, i nostri figli che viaggiano su quella strada più volte al giorno e dobbiamo viaggiare in maniera sicura, non è più accettabile una situazione del genere. 10 chilometri di strada, sei morti in tre anni, non è assolutamente accettabile.